io vi dico solo questo lasciate una marea di mi piace su questo video perché stasera registrerò col buon fabio la reazione al trailer dei pes 2019 con la juventus official partner e non aggiungo altro ma qua parliamo dell'altro gioco della concorrenza e della mia reazione perché so veramente rimasto a bocca aperta non mi sarei mai aspettato una cosa simile ciao bella a tutti da me oh ci sta scritto mi metto pure occhiali per vederci meglio ragazzi miei quindi fifa 20 ha perso i diritti per la juventus li acquisisce pes 2020 dal prossimo anno la juventus su fifa 20 non avendo le licenze si chiamerà molto probabilmente poi non so se cambieranno idea piemonte calcio teoricamente avrebbero voluto utilizzare il nome della città ma torino il torino esiste già quindi mi sa tanto che questo sarà il nome ufficiale per la prossima stagione per me che sono un pes fan di quelli accaniti ma che gioco anche a fifa mi fa particolarmente strano su pes ero abituato ormai pm black white la nonna la zia i nomi dei giocatori storpiati non mi faceva più assolutamente né caldo né freddo guardare una cosa del genere su fifa mi lascia mi lascia veramente a bocca aperta ancora non l'ho vista ovviamente ma prossimo anno sicuramente sarà mi lascia particolarmente a bocca aperta la copertina dello scorso anno ci stava ronaldo sulla copertina che ci mettono ronaldo con la maglietta farlocca della juventus è una cosa che secondo me non so quello che succederà comunque la battaglia tra due videogames che si fanno la concorrenza piano piano sta diventando agguerrita sembra una stronzata ragazzi ma comunque perdere i diritti per una squadra così importante può iniziare a far pensare qualcuno chi lo sa non dovrebbe essere così perché alla fine non so le licenze che fanno il gioco io ho sempre giocato a pes ho sempre giocato anche a fifa ma ho sempre preferito pes perché secondo me in giocabilità pes c'ha quel qualcosa in più rispetto a fifa anche se ci sono stati degli anni in cui ragazzi pes proprio non si poteva guardare fifa era cento volte meglio attualmente non che fifa non mi piace per carità perché mi piace anche fifa ma mi ricordo i vecchi fifa che erano degli arcade purissimi doppio cerchio rovesciata col sempre così e pes invece che comunque dava trasmetteva quel qualcosa in più in termini di simulazione sarà che sono abituato a quelli e magari sono diventato un fanboy e non me ne rendo conto che vedevo di però con gli anni sicuramente fifa anche superato pes in termini di giocabilità di licenza è sempre stata un passo avanti c'ha sempre avuto tutte le licenze e pes non ce l'ha mai avute però vedere pes con le divise ufficiali della juventus con lo stadio ufficiale della juventus l'allianz stadium e vedere fifa non averle me farà sicuramente non lo so vabbè allora il piemonte calcio sarà una nuova squadra giocabile in fifa 20 è già farire così con stemma ed uniformi proprie quindi devono cambiare le uniformi ovviamente perché non hanno le licenze nelle modalità calcio d'inizio carriera idea sports volta football il piemonte calcio sarà calciatori autentici in fifa 20 e fifa 20 ultimate team quindi magari ci avranno mai a farlo che ma i giocatori sono quelli ronaldo non sarà come su pes che ronaldo si chiama rolando ronaldo ribaldo rinaldo e cose del no i nomi sono quelli originali la chimica dei calciatori del piemonte calcio in fifa 20 ultimate team non sarà interessata da questi cambiamenti fifa 20 includerà un'ampia raccolta di club e campionati rappresentativi del gioco più bello del mondo quando verrà rilasciato a settembre vorrei sapere da voi che cosa ne pensate nei commenti vi ripeto lasciate una baracca di mi piace perché ragazzi miei se li lasciate stasera registro col fabio col buon fabio la reazione al trailer dei pes 2020 in cui si vede pianic official ambassador della juventus per pes e poi ovviamente che la juventus è partner ufficiale dei pes 2020 di conseguenza mi raccomando ve lo pubblico domani poi non credo che riuscirò a pubblicarlo stasera però insomma è una cosa carina almeno scoprirete anche il parere del buon fabio che sicuramente sarà abbastanza positivo in tal senso perché comunque dice oh pes mi piace del più de fifa vede la juventus è una cosa di quelle salle mi piace commentate condividete iscrivetevi al mio canale qualora non lo aveste ancora fatto le posso dire una cosa io c'ho un sogno nel cuore pes e fifa che si uniscono modalità de gioco de fifa licenze de fifa giocabilità de pes gioco perfetto ma perché non ve unite e non fate un gioco come se deve coi contro coglioni in cui risviluppate de tutto e de più e finalmente possiamo mettere le mani chi lo sa sul gioco de calcio definitivo basta concorrenza unitevi unitevi secondo me sarebbe una cosa di quelle spettacolari non accadrà mai non accadrà mai perché da una parte america canadese che cazzo è lì è canadese da una parte e da una parte giappone vabbè fatemi sapere che cosa che cosa ne pensate nei commenti io l'ho presa bene da una parte ma sono rimasto un po così perché su fifa se gioco pure io insomma vede la juventus insieme a piemonte calcio non è una bella bella ciao